I peperoni sono una verdura molto versatile, si possono fare in molti modi. Ancora una volta li preparo ripieni, questa volta con la salsiccia. Ho lavato e svuotato i peperoni e poi li ho tagliati a metà, un po' a barchetta. Adesso insieme alla salsiccia che ho sbriciolato metto anche degli aromi, del rosmarino, del sale e del pane in cassetta, se non l'avete va benissimo anche la mollica del pane oppure un po' di pane grattugiato. Giriamo il tutto e poi con questo impasto andiamo a riempire i nostri peperoni. Volendo potete sostituire la carne magari con delle patate lesse. In proposito ho già fatto una ricetta, magari vi lascerò il link su nelle schede in modo che potete andare di nuovo a vederla. Inforniamo il tutto, una mezz'oretta circa, massimo 35 minuti, a 180 gradi. E questo è risultato finale. Semplice, veloce da fare, nutriente e soprattutto gustosi. Questi sono i miei peperoni ripieni con la salsiccia. Se ti è piaciuto questo video non ti rimane che lasciarmi un like. Se sei curioso di sapere cosa preparo in cucina sfoglia tutte le nostre playlist. C'era veramente per tutti i gusti, tante ricette, ma non solo quello perché il nostro canale propone anche tanti altri argomenti. Grazie e al prossimo appuntamento.